Buongiorno, sono in un'azienda agricola di Trieste, la Magno Emanuela, dove hanno usato la Zeolite Cabasite di Vignatec. Non ho nessun interesse a farvi notare quello che vedete, però abbiamo qui il proprietario, dove con l'applicazione di Zeolite Cabasite sta risolvendo parecchi problemi. Qui abbiamo il proprietario, penso che lo possa dire lui stesso. Ho notato che dopo piogge abbondanti, molto abbondanti, il prodotto è ancora rimasto sui grappoli e sulle foglie, quindi funziona e ve lo consiglio. Adesso andiamo un po' da vicino, che mi ha fatto vedere anche a me dove ci sono ancora i residui dopo parecchi acqua. Vediamo un attimo, eccola, quindi vuol dire che la protezione esiste, c'è, eccola là. Io penso che questo, ripeto, non è il mio interesse diretto, però laddove io trovo delle situazioni ecosostenibili o laddove trovo dei risultati come questi, certamente, essendo uno che lavora assieme a voi, con voi, dandovi i prodotti per il lavaggio delle macchine. Mi piace farvi vedere, effettivamente, quali sono i risultati delle Zeolite Cabasite. Come Gianluca Peirano, l'agronomo di Vignatec, mi ha informato e mi ha sempre detto che ci vuole la prevenzione in questi casi, non usarla dopo che succede il problema, quindi la prevenzione è quella che aiuta ad avere questo fogliame, questi grappoli, foglie, foglie esposte alla pioggia, da più di quanto tempo è? Una settimana? Una settimana. Con molta acqua, abbiamo ancora una vasta copertura. Signori, buongiorno.